Musica 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 Vai 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 uno spara e uno miliani ma uno spara e uno miliani Perché Wolfix te ne vai Fatti giro fatti giro Aspetta aspetta Oh scimmie 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 Cazzo Buono paloncavo pochissimo Vai non fammi morire non fammi morire Sto morendo sto morendo Nooo sono morto Ma non ci avversa a coltellarlo L'hambra è riuscita a Toruk Si è ricominciato il nemico ha un'altra possibilità Buono paloncavo Mi tocca rinomentare C'è evidente dei conto Oh me la ditte ma ma in più Poi c'è la facciamo a sperare di questo Foto di si parla Ce la facciamo C'è giallo C'è 4 contro 2 moriamo Con quanti punti Con quanti punti Con quanti punti Mi sta spavando tutto Lasciatello lì Vai vai rega vai Dai Quanto volta Ammazzalo Ammazzalo veloce Ammazzalo 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 Oh mio dio raga Meu dio Oh mio dio Mio dio Mio dio Surprise motherfucker Oh Wolf X Che cosa cazzo fai Wolf mix scegliere il nemico ha un'altra possibilità no ma guarda non abbiamo soldi se ce l'abbiamo più soldi non l'abbiamo un euro ah io non ho raccontato con i problemi con la parità con la roma di merda che cosa fa una roma di fare a me faccio la parola e non ci fai la cassa fammela controllare a me ma vaffanculo ma tutti ben dammi una mano a fare l'animale troia troietta di merda ti scopo la mamma vieni qua troietta dove corri vieni qua che ti scopo la mamma vieni troietta troietta di merda è ovvio che non muore oh io sono sopra wolfix faticcio wolfix faticcio che non c'è nessuno veloce sono dove sta la cassa faticcio che non c'è nessuno non c'è nessuno sopra wolfix non c'è nessuno sopra sono morto e chi è gruppo allora vedi tu gruppo no morto anch'io ma fate schifo dai ragazzi senti non ho un'arma io non ho un'arma io non ho un'arma io non ho un'arma ancora vai che noi ho i soldi per la cassa ho i soldi per la cassa vai una sola cassa posso fare che cazzo mi può uscire l'orsacchiotto ma va a cagare dai non è possibile dai una sola cassa poteva farmi che cazzo mi può uscire l'orsacchiotto ma va a cagare dai non è possibile non posso farmela a me a me mi serve soltanto una cosa l'arma chi se ti esce la pistola di me se nella merda ma non non neanche la pistola non neanche la pistola no troia 8 no c'è il votare raga una mano raga ragazzi che troette ragazzi wolfix è una mano raga se ne sta scendendo no votare non la ponderarmi no non è stato di merda troia ma lo capite che erano neanche come sono io vai 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 uff svegli la mano veloce 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 grande wolfix guarda che cazzo fa che cosa io ti io ti faccio l'assato adoro io faccio un video nel tuo onore velo faccio vai prendilo prendilo grande raga grande raga avete munizioni raga gruppo sensore non la pistola avete munizioni raga come dattici la mano del nome del padre del dio dello spirito santo dattici la mano ma di dio stai facendo tutti canti per ora l'aphore per ora per ora troi per ora Grazie a tutti.